E' tempo di rinnovamento per l'ASP di Caltanissetta. L'azienda sanitaria provinciale ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 192 posti vacanti di dirigente medico in diverse discipline con assunzione a tempo indeterminato. L'avviso pubblico riguarda diverse discipline della medicina, dalla chirurgia generale alla dermatologia, dall'ortopedia alla psichiatria ma anche cardiologia e oftalmologia. Il bando integrale con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato sull'albo dell'azienda e nel sito internet aziendale dell'ASP di Caltanissetta nella sezione bandi di concorso e avvisi. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il prossimo 19 febbraio 2023. Intanto il bando è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale della regione Sicilia numero 15 del 25 novembre 2022 e in versione integrale sul sito internet dell'ASP di Caltanissetta nella sezione bandi di concorsi e avvisi.